Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto Giuseppe Caruso nel corso di una cerimonia inserita nella manifestazione Legalità, giornata contro ogni forma di violenza, illegalità e razzismo. Caruso, ispicesse, è stato anche prefetto di Palermo dopo aver guidato la questura della città, capoluogo dell'isola e quella di Roma. Ha concluso la sua carriera dirigendo l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dalla sua città natale, Ispica ha ricevuto il premio Lisse per aver contribuito alla cattura del boss Bernardo Provenzano. In mattinata vi è stata la piantumazione di un albero dei giusti all'interno della villa comunale dedicata a Giorgio Lapira, giusto fra le nazioni per aver sparso nel mondo i semi della speranza e della giustizia sociale a cura degli alunni della scuola media Rogasi. A seguire, una botta e risposta tra i ragazzi e il prefetto sui temi della legalità e della lotta alle mafie.